La mattina c'erano due signori che sono venuti qui e mi hanno chiesto se abitavo qui e poi abbiamo parlato del più o del meno poi se ne sono andati e dicevano fra di loro ci vuole un bel coraggio a stare qui soli. Bisogna nascerci. Prima era bello colorito il vino un po giallino caldo il vino bianco qui forte buonissimo era quel vino che si faceva qui ma non era più di moda perché la gente lo voleva leggero e bianchino non deve aver più il giallo è quasi biancastro ormai ci sono le mode ormai per esempio in quel momento gli americani chiedevano in italia al vino che si veniva esportato il rosso lo volevano un po amabile invece noi il rosso doveva essere il San Giovento se lo immagina. Ci sono le mode ormai il vino doveva essere normale il vino mi piaceva dolcino allora non so se lo facevano un pochino più al sole per averlo più dolce insomma. Ora le faccio vedere le pampane con la grandine è venuta da grecale qua qui meno male che non ha toccato l'uva l'avevo liberate perché hanno bisogno di sole erano qui all'ombra e vede che sono ancora chiare ci sono ancora i chicchi bianchi bisogna lasciar decidere a quelli che se ne intendono è che non ti ne dirò